Marco Pontecorvo sul carpet per la retrospettiva della Pixar, Wall-E, ti è piaciuto? Incredibilmente, mi era piaciuto, l'ho rivisto prima di andare adesso a questa presentazione, è commovente, c'ha tante cose dentro, poi c'ha una ricerca dell'immagine e una fiducia nell'immagine, stanno pochissime parole, che per un film così è coraggioso e quindi benvengano, poi è travolgente, molto bello, molto bello. Senti, quest'anno la decima edizione della Festa del Cinema di Roma torna a chiamarsi Festa, cosa ne pensi? Pensi che possa giovare per Roma, diversificarsi dalle altre manifestazioni? Sì, assolutamente, adesso non so se il nome Festa o Festival possano cambiare qualche cosa, però di sicuro deve crescere, deve avere uno spazio importante, perché è una città importante, deve avere un festival così, che corrisponda. Ciao. Grazie mille.